E guarda, scusatemi se è poco, ok? Va bene, andiamo in onda con le interviste. Allora, diciamo che abbiamo lavorato prettamente sull'aspetto motivazionale in queste due settimane. I risultati li abbiamo avuti, stiamo cercando di cambiarlo anche sull'aspetto tattico. Siamo sulla buona strada, i risultati ci danno ragione, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ci abbiamo ancora parecchia strada da percorrere. Che cambiamenti tattici ci potranno essere in futuro? Diciamo che adesso, tatticamente, abbiamo preferito schierare due punte, di cui una in appoggio e l'altra che Pirone, che l'abbiamo lasciata un po' più libera, cercando di sfruttare le sue caratteristiche. Però diciamo che le ragazze a livello tattico già stavano sistemate bene in campo, era soltanto una questione di motivazionale. Lì abbiamo avuto un po' la svolta, cercare di fare determinate cose con più convinzione perché hanno la possibilità, dato che i mezzi sono positivi, tecnicamente parlando. Quindi la squadra l'ha trovata bene? Sì, sì, la squadra sta andando bene, mi ha risposto bene. Ed è una squadra che sono ragazze molto umili, amano lavorare il sacrificio e subito, diciamo che ho avuto una risposta immediata perché recepiscono immediatamente quelle che sono le scelte tattiche, tecniche, movimenti. Sono veramente delle ragazze stupende, quindi su questo non abbiamo alcun tipo di problema. Oggi ha fatto tre golla, com'è vista la squadra? La squadra l'ha vista bene, siamo entrati in mezzo a campo convinte. Speriamo che tutte le domeniche entriamo così, cioè speriamo sicuramente che entriamo così in campo. Quindi è una promessa che farei molti gol nelle prossime partite? Eh, non lo diciamo. Va bene? Va bene, grazie Valeria. Prego. La squadra ha giocato benissimo, anche se l'avversario non è che era così competitivo. Noi abbiamo fatto due vittorie, quella di domenica scorsa e quella di domenica e questa qui di stasera, che ha fatto un po' morale, quindi la squadra si è mostrato benissimo, le ragazze hanno preso di nuovo fiducia. La partita più importante sarà sicuramente quella di domenica, ci andiamo a giocare questo scontro diretto contro la prima in classifica.